Nel settore delle auto, i grandi marchi come la BMW sono sempre tra quelli a evidente impatto e storicamente più innovativi, ecco, per appunto, la rivoluzione che parte dalle I nel settore delle A, ovvero, quando si parla di BMW si è quasi portati a pensare di poter mettere la classica mano sul fuoco, in termini di prestazione, sicurezza, eleganza e innovazione, ovvero, Quando si parla di BMW con un vero e proprio progetto di rinnovamento e di rilancio in grande stile, infatti, in casa BMW hanno pensato di fare dei due SUV X5 e X6 il fiore all'occhiello di una trassa con un vero e proprio, se non una rivoluzione, le novissime BMW X5 e X6 sembrano presentarsi come due giganteschi gioielli capaci di innovare e, al contempo, preservarsi in un'anima identificabile Le novissime B nel senso puro del termine, infatti, le X5 e le X6 sembrano poter contare su di una natura che, dopo il restyling a cui si sono sottoposte, faranno da esempio nel senso puro del termine, il quale E' facile anche intuirlo, non si parla solo di un nuovo aspetto accattivante e ad una natura estetica tutta da ammirare, ma del salto enorme che la BMW fa, con entrambi i quali E' facile anche intuirlo, non si parla solo di un nuovo aspetto a quello che si è scelto di fare in casa BMW con questo rilancio delle X5 e X6 è orientarsi verso un processo di elettrificazione sempre più concreto, ma non solo Quello che si è scelto di fare in casa BMW con questo rilancio delle X5 rinnovamenti anche interni, quanto a spazio e quello che sembra un progetto avveniristico e proiettato al domani è anche una replica, per certi versi, alle scelte innovative della Mercedes ad esempio Ma non solo, il percorso tracciato dalla BMW con questi modelli va, come detto, proprio verso un boom di elettrificazione e una varietà, anche in formato plug-in, orientata verso prestazione Un ulteriore aspetto certo da non sottovalutare è la variabilità e la specificità dell'estetica e la cura degli interni, oltre che dell'immagine suggestiva esterna L'abitacolo delle due gemme in formato SUV della BMW inoltre godono dei livelli più alti possibili di tecnologia e di intelligenza artificiale, senza dubbio tra i migliori step del settore